L'artigiana Wong è decoratrice da quasi 10 anni. Lascia asciugare il colore di sfondo sul biscotto e poi inizia il disegno a mano libera. Prima gli steli, che serviranno anche come linee guida, e poi le foglioline. Guardate con che abilità e velocità Wong suddivide gli spazi e usa il pennello sottile. Ora con una penna dalla punta di spugna dipinge le foglie più grandi, intervallando il decoro con il bagno della penna nel colore. E la velocità non preclude la qualità, senza nessuna sbavatura. Nuovo colore e nuova tecnica per le foglioline vuote. L'artigiana completa i ramoscelli con una serie di movimenti ad otto di dimensioni diverse. Una volta terminate le decorazioni, il prodotto verrà cotto un'altra volta, a una temperatura elevata, circa 1200 gradi. E questa seconda cottura renderà il prodotto forte, resistente ai lavaggi e molto impermeabile, per una garanzia di sicurezza alimentare.